mi viene da piangere io questo video qua l'ho già registrato e purtroppo mi sono reso conto che l'audio era corrotto e quindi ora lo riregistriamo insieme oggi vi voglio parlare di tre aziende che rilasciano di vendi che uno ho in portafoglio e due sto incrementando recentemente tra l'altro vi consiglio di andare a vedere l'ultimo video che ho caricato dove inserisco 10 aziende in una watchlist da analizzare per il 2023 sappiate che le aziende che mi nominerete all'interno del video nei commenti le analizzerò magari più dettagliatamente quindi magari vi farò vedere i miei fogli di calcolo così magari sapete cosa ne penso in generale vi ricordo che se lasciate like a questo video qua farò un video in che vi mostro come funziona il mio foglio di calcolo in generale come valuto l'azienda quindi se avete piaciuto di saperlo magari lasciate un bel like allora la prima azienda di cui vi voglio parlare è Westrock che per chi non lo sapesse ora vi faccio vedere è un'azienda americana che si occupa di imballaggi si occupa di imballaggi di cartone soprattutto un loro prodotto ad esempio è il Ken Collar che serve semplicemente per portare le lattine che tra l'altro è una cosa che sta prendendo molto piede nei nostri supermercati infatti è una soluzione che ha adottato anche Coca Cola semplicemente perché la gente si è resa conto che non ha più senso utilizzare la plastica perché inquina veramente in modo esagerato Westrock come potete vedere ha toccato un massimo nel 2018 poi ha sostanzialmente lateralizzato dai massimi a un meno 50 dai massimi recenti che ha toccato il 3 maggio 2021 è a meno 43 per cento per chi non lo sapesse io ho già una grande posizione in Westrock che è tra le mie più grandi posizioni tra l'altro ho fatto anche un video in cui vi mostro il mio portafoglio attualmente quindi se avete piacere guardarlo l'ho caricato qualche settimana fa a mio avviso penso che a questi prezzi qua abbia senso incrementare la mia posizione in Westrock perché perché rilascio un dividendo del 3,12 per cento che però non è ciò che mi ha fatto decidere di vestirci sopra o no ma è una combo tra l'incremento che può ricevere l'azione a mio avviso secondo i miei calcoli secondo il mio algoritmo e appunto anche il dividendo che ne abbassa il rischio a mio avviso come potete vedere io stimo una crescita degli utili operazioni all'incirca del 7 per cento anno per i prossimi tre anni che mi porta davvero tra tre anni un utile operazione di 4,41 dollari e facendo una stima del p e vedendo la comparazione con il settore la crescita del settore la crescita della singola azione e lo storico del p e dell'azienda diciamo che tra tre anni un p e di 10,69 può essere sensato per Westrock che porta ad avere un prezzo operazione tra tre anni di 47 dollari supponiamo che i miei calcoli siano corretti e le proiezioni siano corrette tra dividendi e incremento di valore dell'azione dovrei riuscire a guadagnare all'incirca un 43 per cento su Westrock che a mio avviso è molto molto interessante considerando anche il basso rischio perché a mio avviso i multipli di Westrock sono molto molto bassi infatti come potete vedere ha un price earnings di 9 un price 6 di 0,42 cioè nel senso la capitalizzazione di mercato è praticamente la metà rispetto al fatturato che ha un price to book di 0,80 un price free cash flow di 7 infatti Westrock ha un free cash flow di all'incirca un miliardo e mezzo che è molto molto alto l'unica cosa sulla quale non sono contentissimo per quanto riguarda Westrock è appunto i margini infatti ha margini veramente molto bassi però considerando che opera in un settore che è quello industriale ci può stare ovvio non sarà mai la maggiore posizione del mio portafoglio perché essendo che generalmente ho un portafoglio growth non avrebbe troppo senso però un'azione difensiva come Westrock mi può interessare infatti ce l'ho in portafoglio e occupa anche all'incirca la quarta quinta posizione più grande all'interno del mio portafoglio la seconda azienda della quale vi voglio parlare è Microsoft infatti per chi non lo sapesse anche se è una delle mie più grandi posizioni sto guadagnando molto bene sopra Microsoft e in generale penso che insieme ad Alphabet sia l'azienda in assoluto che preferisco quindi potete capire che considerando che la posso comprare al meno 30 per cento dei massimi considerando la dominanza che ha questa azienda a mio avviso non ha senso non approfittarne per chi non lo sapesse è al meno 30 per cento dei massimi ma se noi andiamo a vedere anche ad esempio la valutazione storica magari del price earnings forward o del price earnings normale possiamo vedere che ha raggiunto valutazioni molto 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 interessanti infatti questa è che la media del price earnings forward è 28 e attualmente sta a 24 diciamo che è molto molto interessante perché è almeno 20 per cento all'incirca più o meno dalla media storica se noi andiamo a prendere magari il pre cash flow yield invece possiamo vedere come sta leggermente salendo e questo è molto molto interessante per noi secondo i miei calcoli Microsoft dovrebbe aumentare i suoi utili per azioni all'incirca del 16 per cento anno che porterebbe dei utili attuali che sono 9,28 dollari per azione all'incirca 14,71 tra tre anni e a mio avviso un pie di 23,85 potrebbe essere giusto otteria otteniamo un prezzo per azioni di 350 dollari che ci garantirebbe insieme ai dividendi perché per chi non lo sapesse Microsoft rilascia dividendi che aumentano tra l'altro anche del 15 per cento anno un dividend yield del 1,11 per cento non è male e quindi sommando dividend yield anno più l'incremento di valore dell'azione otteneva all'incirca un 46 per cento di profit all'incirca in tre anni che non è per niente male se poi consideriamo anche che ha mai aumenta dividendo del 15 per cento anno più o meno all'incirca tra cinque anni avevamo praticamente raddoppiato lo yield on cost quindi veramente veramente molto interessante e anche con un semplice discounted cash flow otteniamo anche un rating compra quindi diciamo molto molto interessante stavolta mi sono dimenticato di farvi vedere il discounted cash flow di Westrock però anche lì ci veniva una differenza all'incirca del 30 per cento quindi un ottimo ottimo buy attualmente l'ultima azienda dalla quale vi voglio parlare è Mastercard a mio avviso insieme a Visa una delle più belle aziende che ho in portafoglio questa al contrario delle altre due non è croata tanto perché dai massimi alla fine siamo solo all'incirca un meno quattordici per cento ma questo è anche un suo punto di forza diciamo che tendenzialmente non è mai stata troppo volatile non ho mai non è mai scesa troppo anche per dirvi nel 2020 dal massimo al minimo ha toccato poi un meno quattro due per cento che all'incirca come il mercato all'incirca un'azienda che secondo i miei calcoli dovrebbe aumentare gli utili operazioni all'incirca del 20 per cento anno per i prossimi tre anni e che considerando anche le valutazioni storiche un pie di 30 all'incirca potrebbe essere sensato infatti se ne andiamo a vedere il pie storico all'incirca negli ultimi tre anni ce l'ha avuto un 30 di pie ce l'ha avuto praticamente solo durante il crollo di marzo 2020 però considerate anche che tra tre anni potrebbe tranquillamente avere una crescita più bassa rispetto a quella che proietto io quindi è anche giusto abbassare un po quello che potrebbe essere il pie futuro la cosa spettacolare di ma di mastercard è probabilmente insieme a visa insieme a meta praticamente un anno fa in realtà è il fatto che abbia un conto economico spettacolare infatti secondo il mio algoritmo ha un rating per quanto riguarda il conto economico all'incirca di 9 come voto da 9 a 10 un grosso margine del 77 per cento follia un ebidda di 58 un ebidda margine di 58 per cento altissimo un roe del 145 per cento spettacolo un roe del 49 per cento io sinceramente non so cosa dire e di che la lunga una delle aziende più più interessanti nella quale investito ci sto anche guadagnando bene e sto pensando però di incrementare ho comprato anche recentemente però come sapete io continuo il mio piano d'accumulo come come vi ho già spiegato in diversi video e quindi penso sostanzialmente che continuerò a comprare queste tre aziende e anche altre che vi ho consigliato nell'ultimo video quindi se avete piacere di ricevere altri video del genere fatemelo sapere con un bel like ciao a tutti